Importante rassegna dedicata al musical, la D'Impera a dicembre, e ce ne parla Marina Pratelli, di cosa si tratta innanzitutto? Allora, la rassegna tratta di cinema sorridente, umoristico, però che fa sempre un pochino pensare, quindi cinema di classe, fantasioso, legato alla storia della cinematografia e anche alla cinematografia attuale, perché avremo film di piccoli, ancora giovani autori, quindi legati al cinema e Liguria, una miniserie di cortometraggi, quindi questo è il presente e il futuro, e avremo dei film legati invece a quelli che hanno fatto la storia del cinema, quindi grandi registi e grandi titoli. La manifestazione a dicembre, Cinzia Mondini, presidente dell'associazione che organizza la manifestazione, per una grande passione appunto al musical? Per una grande passione, una grande passione vuoi per il musical, vuoi per il cinema d'autore, il cinema classico, il cinema con eleganza e buon gusto, perché si può ridere di cose serie in maniera garbata, in maniera elegante, sempre e comunque. Un cinema a 360 gradi, quello del musical? Un cinema a 360 gradi che prevede una capacità di cantare, ballare e recitare, ma abbiamo anche molti film che non sono musical in questa edizione, dedicati alle donne, perché anche parlando di donne si può parlarne con un sorriso sulle labbra, anche di problemi seri, senza dover per forza piangerci addosso continuamente.